La Procura di Bari ha chiesto 23 condanni appena comprese tra 9 anni e 3 mesi di reclusione e una soluzione al termine della requisitoria dei pubblici ministeri nel processo che si sta celebrando nell'aula bunker del carcere di Bitonto sul naufragio della Norman Atlantic. Le richieste maggiori a 9 anni sono per Carlo Vicentini, legale rappresentante della società Visemar armatrice della motonave Norman Atlantic, ma anche per il comandante della nave Ergilio Giacomazzi e per Ioanni Vardino Gianni, rappresentante legale Anne Kleins, noleggiatrice del traghetto. Per i tre che rispondono di naufragio e omicidio plurimo colposo con l'aggravante della colpa cosciente è stata avanzata anche la richiesta di interdizione perpetua dei pubblici uffici. La Procura ha chiesto anche la condanna delle due società imputate al pagamento di sanzioni pecuniarie quantificate in 400 mila euro per Visemar e 600 mila euro per Annec. Nell'udienza di oggi sono state depositate anche le richieste dalle parti civili. I ministeri dell'interno e della difesa hanno chiesto il risarcimento di danni patrimoniali per un totale di 2,3 milioni di euro e un danno non patrimoniale tra i due ministeri di 1,1 milioni di euro. 50 mila euro è stata la richiesta di condanna depositata dal Codacons. Dura la requisitoria dei pubblici ministeri che hanno ricostruito tra ieri e oggi davanti alla Corte tutti gli errori e le omissioni di quella notte a cavallo tra il 27 e il 28 dicembre 2014 e in cui persero la vita a largo del mare Adriatico. 31 persone e 64 passeggeri rimasero feriti. Le operazioni di evacuazione sono state tutte sbagliate. La corretta esecuzione avrebbe potuto salvare tutte le persone a bordo. Le accuse dei PM Perrone Capano e Cardinali. Sono mancate le operazioni fondamentali di convogliamento dei passeggeri. hanno spiegato durante la requisitoria IPM il ruolo dell'equipaggio è quello di contenere la folla e consentire l'evacuazione in sicurezza. Le operazioni sono state eseguite in maniera sbagliata, anche quelle di preparazione.